Ma quando si non ci avrò? Giustamente, io ho i tracci. Io li buttiamo. Armaneghiamo anche... Cuscerò. Trascurteranno male. Conoscere il passato serve per vivere il futuro. Penso questo, principalmente. Cioè, se io non conosco le mie rare origini, i miei luoghi comuni, le mie origini, non posso avere un giusto futuro. Quindi non posso creare la mia persona, il mio io, il mio superio, come si potrebbe dire in antropologia. Il regime fascista dimostra nei primi anni un interesse specifico verso i Rome e i Sinti stranieri, che rappresentano un problema per il regime. E quindi il fascismo decide prima di tutto di, diciamo, risolvere questa presenza di Rome e Sinti nelle regioni di confine, prevedendo il loro confine nel centro e nel sud Italia. Il regime fascista dimostra nel centro e 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 nel centro. La presa di coscienza di tutto questo è un fatto relativamente recente. I primi studi sui campi di concentramento fascisti in Italia risalgono nel 1987, quindi a distanza di oltre 40 anni dalla fine della seconda guerra mondiale. Molto spesso si parla del poraimo di Samu Dardipay, del genocidio della comunità romani, si parla dall'esterno. L'esterno si preoccupa di questo fenomeno, però la comunità romani, essendo che non si parla tra di noi, questo fenomeno viene dimenticato anche perché la nostra cultura è orale e essendo che abbiamo la cultura orale, molto spesso, sono passati quasi 70 anni, cominciamo a dimenticare. Per quello è importante lavorare con i giovani. Allora il discorso è quello di lavorare oggi negli archivi storici per trovare i documenti per fare storia e al tempo stesso di trovare laddove possibile ancora delle testimonianze dirette di persone che sono state coinvolte perché sono gli ultimi momenti in cui noi andiamo a raccogliere testimonianze vive del passato. Da cienci, andremo in scuola, ogni camera c'è una famiglia, ogni camera c'è una famiglia, c'è una famiglia, c'è un Roma c'è un altro burcoloso. A cienci, andremo in scuola, c'è un'altra famiglia, c'è un'altra famiglia, e ci sono un'altra famiglia. C'è un'altra famiglia, c'è un'altra famiglia. C'è un'altra famiglia, c'è un'altra famiglia, e qui ci hanno nottato! Aschwitz, faccia incavata, occhi oscurati, labbra fredde, silenzio, cuore strappato, senza fiato, senza parole. L'etnia rom, che ovviamente ha una grande cultura e che vive qui nel nostro territorio, un'esperienza importante, ha il diritto di essere ricordata qui a Lanciano, alla Terza e a Berlino per gettare questo seme, per ridare dignità, forza e visibilità alla Samudaripè, che è stata una tragedia mondiale ma che passa in secondo piano. Siamo a Lanciano e nel Parco delle Memorie, vicino a Villa Sorge, dietro di me c'è Villa Sorge, che era il campo di internamento per le donne ebree. 22 di loro sono state mandate a morire nei campi di concentramento. Perché quello che è successo in qualche maniera ci unisce in unica bandiera, ci unisce per avere la nostra identità e questa identità ci rafforza per combattere contro ogni fenomeno di discriminazione razziale. Siamo uniti non solamente in questo caso con i rom, ma anche con i non rom. Abbiamo un obiettivo, unica identità su questo fenomeno. L'Europa si fa se siamo tutti uniti, se le razze sono una forza, una priorità, ma non un motivo di divisione. I nostri confini devono essere abbattuti e l'Europa non deve essere solo l'Europa dei banchieri, deve essere l'Europa dei popoli che sono insieme, che si uniscono, come stiamo facendo noi, costruiscono ponti tra realtà diverse, tra etnie diverse. Per troppo tempo abbiamo, diciamo, taciuto dell'Olocausto dei Rom e dei Sinti. Allora è giusto che della città da cui partì la prima rivolta verso il nazifascista, oggi parte il nuovo messaggio di dare finalmente la giusta sottolineatura all'Olocausto dei Rom e dei Sinti. che bisogna raccontare la storia, come è stata fatta, come è stata vissuta purtroppo in quegli anni, insieme a Santino Spinelli costruendo questo monumento che sicuramente sarà capace di invitare altre amministrazioni a ripercorrere lo stesso percorso. E in questo luogo, proprio in questo, dove sono io adesso, nascerà il monumento al Samordaripen dei Rom e Sinti. È il primo monumento in Italia che ricorda le vittime dell'aberrazione nazifascista. Questo è il modellino dell'opera che verrà realizzata in pietra, altezza di due metri, dove verrà raccontata altre storie dell'Olocausto. Questa è una scultura che rappresenta l'Olocausto dei Sinti e dei Rom. È un luogo importante questo, soprattutto per il futuro. Questa statua sarà un monumento non solo alla memoria, ma avrà anche una funzione educativa per le nuove generazioni. La stazione di Tarino di Sangre che stava accesa nel campo di concentramento. Le spenacce. Accesa in modo che accendono con mascarata. Oltre a fare una carosinense, sarebbe bene. Rappresenta una madre che fugge e che ingiampa qui nel filo spinato. Il movimento è importante. Per me è Roma, quando nascemo, nascemo tante trasci delle tedesche, da Marenzi Ninchio, che fuggono a Chiara, che fuggono a Chiara. Non ti può mai dimenticare, non ti scorda mai. L'importante è il movimento, una storia che nascemo la me e l'Iguaia. Lei fugge verso la salvezza, verso una libertà che è un sogno in quel periodo, perché era tutto triste l'Europa, c'è la guerra dappertutto. Questo luogo diventerà luogo di dignità del popolo rome e sinti. Perché? Perché non abbiamo chiesto soldi alle istituzioni, non abbiamo chiesto soldi ai politici, che poi non riconoscono in realtà il Samur Daripen dei rome e sinti. Questo è un luogo di dignità per il nostro popolo, perché è la società civile. Amici dei rome e sinti, associazioni di volontariato, la cosiddetta società civile che ha fornito attraverso un crowdfunding, cioè una raccolta fondi a livello nazionale e internazionale, ha dato i mezzi per poter costruire questo monumento così importante, che è un monumento che dà dignità al popolo rome e sinti, non solo, ripeto, in Italia, ma in tutto il mondo. Grazie a tutti.